Signor Mikid, un tempo lei aveva guanti bianchi in classe, un bastone con l'impugnatura d'oporio e una cicatrice sul collo, frequentava l'albergo della seppia, non le è rimasta che la cicatrice la quale tra tutti i suoi segni di riconoscimento è senza dubbio quella di minor valore. Grazie a tutti.